L'ultimo argomento di questa settimana sono i form. Voi incontrate tipicamente i form molteplici volte quando navigate su un sito web. Per esempio quando vi registrate su un nuovo sito, quando fate il login a un sito, voi tipicamente utilizzate un form per fare queste operazioni. Avete anche inserito nel laboratorio 2 un form all'interno del sito della pagina web che stavamo realizzando. Quindi questi form sono abbastanza diffusi e hanno delle proprietà caratteristiche peculiari che vale la pena espandere e approfondire un pochino. In particolare in questa serie di video affronteremo come capire la gestione dei form nell'applicazione web, conoscere i controlli ad applicare nei form più comuni in HTML5. Parleremo anche di come gestire gli eventi che i form scatenano e anche un pochino di validazione di questi form all'interno del browser, quindi sempre nel client. Per esempio come fare a validare che un campo che deve per esempio contenere dei numeri, contenga effettivamente dei numeri e quindi se la persona, l'utente, scrive delle lettere al suo interno, scrive del testo, questo campo di questa form non sia marcato come invalido e quindi l'utente possa immediatamente modificarlo e correggerlo correttamente. Iniziamo con come gestire i form. Allora, qual è l'utilizzo tipico, diciamo, dei form? In un'applicazione web tradizionale, se ricordate quando abbiamo parlato di applicazioni web, abbiamo un server che fornisce la pagina HTML e questa pagina HTML potrebbe, come nel nostro caso, avere dei form. I form sono abbastanza, sono presenti da molto tempo su internet, iniziano a comparire nel 1995, nella standard HTML2. E questi form sono tag HTML, sono elementi HTML che permettono appunto di inserire dati attraverso vari tipi di controlli. Possono essere dei campi testuali per inserire appunto del testo, possono essere delle checkbox, possono essere dei radio button e così via. Una volta che il nostro utente ha aperto il form, l'ha compilato attraverso questi controlli, sottomette il form attraverso un bottone speciale, che ha delle proprietà speciali, che chiamiamo bottone di submit. Alla pressione del bottone di submit il form prevede di inviare gli elementi inseriti all'interno del form, codificati in modo standard e appunto inviarli via HTTP, tipicamente con una richiesta POST e altre volte con una richiesta GET, a un server. Il server, l'applicazione, il server application, processerà i dati restituiti, farà quello che deve fare e risponderà in un'applicazione web tradizionale con una nuova pagina HTML che verrà poi parsificata dal browser e visualizzata all'utente. Per esempio, voi avete un form per inserire il vostro nome utente e la password, premete il bottone login, che nel nostro caso è il bottone di submit, il vostro nome utente e la vostra password verranno codificati e inviati via HTTP attraverso una richiesta POST a un server. Il server controllerà se il nome utente e la password esistono e sono validi, quindi che la password inserita sia giusta per quell'utente e risponderà nell'applicazione tradizionale con una nuova pagina HTML che dirà nome utente password errati oppure dirà benvenuto e ti invierà l'utente alla pagina di profilo. In un'applicazione web un pochino più moderna invece l'interazione avviene in questo modo. Il server fornece sempre la pagina HTML. La pagina HTML ha al suo interno sempre dei form con i vari controlli per gli input e le interazioni. Ma quello che cambia è che in un'architettura un pochino più moderna JavaScript nel browser può intercettare gli eventi dei controlli specifici nel form e reagire opportunamente. Per esempio potrebbe modificare il contenuto del form in base a quello che l'utente inserisce, può validare il contenuto come dicevo prima, può mandare porzioni di richieste asincrone al server per avere più informazioni sul form e così via. Alla fine quando il nostro utente ha compilato il form attraverso il bottone submit può mandare opzionalmente in questo caso i dati codificati come prima al server e questo invio può avvenire in due modi. Come nelle applicazioni tradizionali quindi in maniera asincrona con il ricaricamento della pagina oppure in maniera asincrona e quindi il client rimanere sulla stessa pagina che avrà solo qualche contenuto cambiato. Parliamo ora di come costruire un form e di quali sono i controlli che possono apparire all'interno di un form. Innanzitutto un form è appunto un elemento html che ha un tag che si chiama form e questo tag, un tag html normalissimo con degli attributi id, class eccetera tipici di tutti gli elementi html ma che definisce due attributi in più, un attributo action e un attributo method. Entrambi sono molto importanti. L'attributo action definisce qual è la url o la porzione di url da utilizzare per la sottomissione del form. Method definisce invece qual è il metodo http con cui effettuare questa sottomissione. Se il metodo non è definito ha come default a get ma tipicamente i form inviano i dati con un post. Quindi questo form una volta che viene sottomesso farà una richiesta post a l'indirizzo corrispondente allo stesso server che serve questa pagina html slash newtask. All'interno di questo tag form possiamo utilizzare diversi elementi html per far sì che la persona, l'utente del nostro sito, inserisca varie informazioni all'interno del form. Ci possono essere vari tipi di elementi di input di controllo. Ci può essere l'input per esempio testuale, si può selezionare, ci può essere un bottone, poi ci possono essere elementi di supporto, le etichette, il data list e così via. Ognuno di questo elemento dovrebbe essere unicamente identificato dal valore di un attributo che si chiama name. Quindi oltre all'id, alle classi e quant'altro, gli elementi del form, gli elementi di controllo del form hanno un attributo che si chiama name che identifica univocamente il controllo. Qui vediamo un esempio del tag input. Il tag input si rappresenta in questo modo in una pagina web e serve per esempio per inserire del testo. Questo tag input ha appunto un tipo che identifica il tipo di contenuto, in questo caso testo, presente all'interno del, da inserire, all'interno del controllo. Il nome, lo stesso attributo nome di prima, che dice che quello che verrà inserito in questo, in questo input va associato in un certo senso al concetto, alla variabile di first name. Ha poi un placeholder, in questo caso your first name, che è quello che compare all'interno di questo campo di testuale prima che l'utente scriva qualunque cosa. Il placeholder è un campo opzionale, senza indicarlo questo rimane vuoto, finché la persona non scrive. Name è un campo fortemente consigliato per l'utilizzo. Le funzionalità del DOM ci permettono di accedere ai form in diversi modi. Per esempio la proprietà forms ci permette di recuperare tutti i form presenti in una pagina HTML. Addirittura possiamo dire document.forms aperta quadra l'id del form, quindi l'attributo id associato all'elemento HTML form, oppure potremmo dire form aperta quadra di 0, per prendere il primo form che esiste nella pagina, oppure forms aperta quadra il nome del form, quindi il valore dell'attributo name associato eventualmente all'oggetto form. Il form, il nodo form recuperato in questo modo dal DOM ha delle proprietà, ha una proprietà che si chiama elements, plurale, che contiene i dati degli elementi interni, per esempio l'input di prima. Quindi my forms, appunto, element, indicando l'id dell'elemento, se noi ipotizzassimo di avere un form con all'interno questo input, il form.elements di first name restituerebbe il valore associato a quell'input. Ci sono vari tipi, ovviamente, di tipi di controllo, di campi di input. Abbiamo visto text, ma esiste anche per esempio button, quindi come tipo, un tipo di input è checkbox, un altro tipo è il colore, un campo può avere come tipo la data, quindi non testo puro, ma data, oppure date time local, email, file e così via. Ognuno può avere o delle proprietà specifiche all'interno del campo, per esempio date accetta una data in questo formato, oppure può cambiare il comportamento del campo input. Per esempio file fa apparire un bottone per scegliere il file. Notate che alcuni di questi controlli esistono da HTML5, quindi alcuni sono più nuovi e altri possono non essere ancora totalmente supportati da tutti i browser, altri invece esistono a più tempo, tipo password. Il campo password, un campo di input con type uguale password, fa sì che ogni volta che voi digitiate qualcosa in questo campo e invece di comparire le lettere, compaiono dei puntini che appunto nascondono la password. Altri tipi di controllo, radio button, un elenco con questi bottoncini da selezionare in maniera mutuamente esclusiva, range, uno slider, un bottone di reset per resettare il form ai valori di default, che non è raccomandato, un campo per search, il bottone di submit, che effettivamente sottomette il bottone, e altri tra cui testo, time, url. Ci sono anche dei valori obsoleti che nonostante siano stati introdotti da HTML5 sarebbe meglio non utilizzare, per esempio, questo date time. Oltre a type, quali sono gli altri attributi che possono essere utilizzati? Disabled, questi sono più frequenti. Disabled, se vogliamo un controllo di un form a schermo, ma questo controllo è disabilitato. Read only, possibile solo leggere ma non scrivere. Required, vogliamo un input, vogliamo che questo campo input sia riempito prima di poter sottomettere il form, altrimenti il form non viene sottomesso. Size, value, size per controllare la dimensione del controllo, value per recuperare il valore inserito dall'utente. Checked, per vedere se la checkbox o il radio button è selezionato o meno, quindi true se è selezionato, false se non lo è. Autocomplete, come attributo, quindi un suggerimento per autocompletare il form e così via. Questi sono attributi, quindi da inserire esattamente come name. Tipicamente questi attributi vengono inseriti senza un uguale. Quindi quando vogliamo disattivare un campo, per esempio un controllo, scriviamo direttamente disabled, non scriviamo disabled uguale true o disabled uguale false. Solo l'attributo disabled, così com'è. E in maniera simile per molti degli altri. Ci sono poi altri attributi che sono dipendenti dal tipo di controllo. Per esempio con un input di tipo numerico è possibile indicare un minimo e un massimo, quindi un range di valori numerici minimo massimi che è possibile inserire. Con un input di tipo testuale è possibile indicare un pattern di questo tipo. E per esempio con uno di tipo file è possibile definire quali estensioni, quali tipi di file ed estensioni accetta. In questo caso jpeg, scritto con e senza lei, e png. Associati agli input, che possono essere tutti quei tipi che abbiamo visto prima, c'è anche l'elemento label, che rappresenta una didascalia, per un titoletto, se volete, a schermo, per un input. La label è associata a un suo input attraverso il campo for. Notate qui, questo codice HTML viene rappresentato in questo modo. Vedete, la label dice ti piace il formaggio, ed ecco qui, e poi c'è una checkbox da mettere la spunta o meno. E qui c'è ti piace i piselli e c'è una spunta da selezionare. Quindi questa è l'etichetta di questa checkbox. Le checkbox, le radiobox, quasi tutti in realtà, tutti, possiamo dire gli input, possono supportare la label. E buona norma aggiungere una label alle checkbox, soprattutto per motivi di accessibilità. Di nuovo i ciechi che possono usare gli screen reader per leggere e capire che cos'è questa checkbox e selezionarla anche in modalità touch. La label è importante perché cliccando sulla label si può attivare il controllo corrispondente, anche senza cliccare con precisione su questa checkbox. E la label è associata al suo input attraverso l'attributo for, come dicevo, il cui valore è uguale allo stesso valore dell'id del controllo. Quindi un input che è id cheese, la label per questo input avrà for come attributo e cheese. Quindi questa è la label per l'elemento HTML identificato dall'id cheese. Dato che in una pagina HTML ci può essere solo uno e un unico id, questo funziona senza nessun problema. Tutti questi attributi sono disponibili attraverso il DOM e in particolare value su input testuali ritorna o imposta il valore corrente del controllo. Checked ritorna o imposta lo stato corrente con lo spunto senza spunta, per esempio, dell'elemento. Validity ritorna, non imposta, ma ritorna lo stato di validità dell'elemento. Ci sono poi altri tipi di controllo. Per esempio, questi sono text area. Quindi campi di input ma che stanno su più righe. Ci sono controlli drop down, tipo questo, in cui è possibile identificare le opzioni ed è anche qual è l'opzione selezionata di default. Quella che avrà la spunta di default. Eventualmente anche raggruppandoli in sottogruppi, come in questo caso. C'è poi il controllo di tipo bottone, che è un tag proprio che si chiama button. E ci sono tre tipi di bottoni in un form che sono identificati da questo type. Il submit che sottomette il form al server, fra quell'operazione che dicevamo prima. Il reset, che resette il contenuto del form a valore iniziale. Oppure type button, che è solo un bottone il cui comportamento può essere specificato e anche utilizzato al di fuori di forma. Ora, noi abbiamo detto, quando abbiamo fatto gli input, che... Se vuoi, insendiamo sopra. Che esiste qui un input type button. Ecco, qual è la differenza tra input type button e utilizzare il tag button? Essenzialmente la differenza è che il bottone vero e proprio, quindi il tag bottone, è molto più flessibile del tag input, in quanto può avere del contenuto, può avere dell'immagine al suo interno, come in questo modo. Quindi il bottone può essere personalizzato molto molto di più utilizzando il tag button, rispetto a utilizzando il tag input type button. Funzionalmente, diciamo così, sono equivalenti, il bottone si presta meglio ad eventuali cambiamenti di stile, come nel caso rappresentato nella slide. Bisogna tenere però sempre in considerazione, quando si lavora con i form, soprattutto con i controlli del form, come gli input e quant'altro, che l'apparenza di default nei vari browser può cambiare. Se visto già in questi esempi, vedete, queste sono la text area di default su vari browser, vedete come appaiono diverse. Questo è quando nel focus, uno è il focus azzurro, uno ce l'ha violetto, uno praticamente non si vede, uno è un azzurro diverso da questo, eccetera. E anche il disabled, qualcuno cambia il colore del testo, qualcuno mette uno sfondo grigio, qualcuno mette uno sfondo verdino e così via. Quindi i browser hanno negli anni e tuttora applicato aspetti diversi ai vari campi dell'input e alcuni di questi aspetti diversi, alcune di queste diversità, alcune di queste personalizzazioni possono risolvibili, sono risolvibili col CSS, altri sono difficili da gestire per proprio come sono fatti gli elementi del form. Per esempio le checkbox sono molto molto complicate da gestire. Le checkbox tradizionalmente sono quadrate, con una spunta blu, se uno già volesse arrotondare i bordi, cambiare il colore della spunta, bisogna lavorare molto sul CSS. In realtà si nasconde quello che si fa, si nasconde la checkbox e la si sostituisce con una finta checkbox che ha lo stesso comportamento e si gestisce il comportamento a mano. Quindi nel checkbox se si può fare qualcosa, altri tipo il range, il file, eccetera, non possono essere proprio stilizzati col CSS, non ci sono attributi da poter cambiare col CSS per cambiare l'aspetto. Se uno vuole cambiare un po' l'aspetto si possono ovviamente utilizzare delle librerie, per esempio Bootstrap, se parliamo dei checkbox, fornisce un custom checkbox come classe che appunto permette di personalizzare l'aspetto delle checkbox, quindi avere checkbox un pochino diverse, con colori diversi e appunto più forse anche carini da vedere all'interno di un sito.